Notizie contrastanti dal nuovo bollettino Covid, 5 decessi compresi alcuni dei giorni scorsi, 144 positivi su 1614 tamponi e 98 guariti, restano 10 ricoverati nelle terapie intensive, Figliuolo anticipa la visita in Basilicata giovedì. E da ieri partite le somministrazioni sperimentali negli studi professionali di 150 medici di famiglia, ma non sono mancati dei problemi organizzativi e qualche disparità tra i vari comuni nella consegna delle 30 dosi AstraZeneca di partenza. La cronaca giudiziaria al via ieri il processo per abuso d'ufficio a carico dell'ex direttore generale dell'ARPAB Edmondo Iannicelli, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente si è costituita parte civile. La campagna di raccolta dei prodotti agricoli e ortofrutticoli è già partita, ma manca la mano d'opera e si rischia la crisi del comparto. Col diretti lancia l'allarme per la mancata proroga della possibilità di lavorare ai percettori del reddito di cittadinanza o in cassa integrazione. Passaggio di consegna alla direzione dei musei Lucani. Scaduto il secondo mandato, la direttrice Marta Ragozzino cede il testimone all'architetto Anna Maria Mauro. Abbiamo raccolto il suo commosso saluto stamattina nel corso di Prima Notizia. Buon pomeriggio, buon martedì e ben ritrovati in studio a tutti voi per l'appuntamento con le notizie dalla nuova TG. E' in apertura sempre l'emergenza coronavirus. Cala quest'oggi leggermente il tasso di positività, ma sono cinque le persone che hanno perso la vita negli ultimi quattro giorni. E' boom di casi a Rionero, Matera e Policoro. Facciamo il consueto punto con Michelangelo Russo. Cala l'incidenza dei casi positivi, ma si tornano a contare ben cinque vittime a causa del Covid. Tre persone residenti a Matera, Policoro e Pomarico, decedute al Madonna delle Grazie già nei giorni scorsi. Mentre a San Carlo nelle ultime ore non ce l'hanno fatta una 85enne ed un 74enne, residenti a Potenza e Tito. 484 ore ai decessi accertati dalla Task Force dall'inizio della pandemia. 144 i nuovi casi scoperti tra i residenti a fronte di 1.614 tamponi processati, con un rapporto attestato al 9% e quindi più basso rispetto ai dati della settimana scorsa. 182 i ricoverati, 10 i pazienti nelle terapie intensive, ma in questo caso purtroppo a incidere il dato anche delle vittime. Resta complessa la situazione a Rionero, dove le scuole sono chiuse fino a sabato. 24 i cittadini risultati positivi agli ultimi test prelevati. 20 casi attribuiti anche alla città dei Sassi, 12 a Policoro, 8 a Potenza, 7 ad Avigliano e a Tella, 6 ad Abriola. A Pignola un sospetto caso di Covid-19 riscontrato su un alunno frequentante la scuola primaria di Pantano ha portato il primo cittadino a disporre due giorni di sanificazione degli ambienti scolastici, a chiudere la scuola dell'infanzia e a sospendere le attività didattiche in presenza per la scuola primaria interessata. Fino a domani, stabilmente alto il numero dei guariti, 98, 5.548 i casi attivi. Intanto è atteso giovedì in Basilicata il commissario Figliuolo, che visiterà i punti vaccinali allestiti nelle tensostrutture di Matera e Potenza. Intanto da ieri sono partite le somministrazioni sperimentali negli studi professionali di circa 150 medici di famiglia, ma non sono mancati i problemi organizzativi e qualche disparità tra i vari comuni nella consegna delle 30 dosi AstraZeneca di partenza. Ce ne parla Lucia Pietrafesa. In Basilicata sono circa 150 su 500 i medici di base che hanno aderito all'iniziativa messa a punto dalla Task Force. indirizzata agli over 70. In gran parte le attività si sono svolte negli studi professionali, non senza problemi organizzativi e a quanto pare anche con qualche disparità nella fornitura delle dosi AstraZeneca. A Montalbano, dove tutti i medici hanno aderito, fino a ieri però nessuno dei camici bianchi interessati aveva ricevuto le 30 dosi promesse di partenza. A Tursi invece zero adesioni, una situazione che praticamente ha spinto il sindaco Salvatore Cosma a trovare soluzioni alternative. Chiesta pertanto alla Task Force la disponibilità di fruire delle professionalità afferenti al distretto sanitario locale. Fino a domenica sul solo territorio provinciale di Matera sono stati 60 i medici che si sono mobilitati, ma circa due terzi di loro si è tirato indietro. Hanno giocato a sfavore della partecipazione l'insicurezza circa la disponibilità delle dosi, la preoccupazione del tempo da dedicare ai soli compiti burocratici, nonché la necessità di garantire la permanenza in studio dopo l'inoculazione e la contestuale esigenza di evitare assembramenti. Il presidente della provincia marrese ha sollecitato l'ordine provinciale dei medici a sensibilizzare i propri iscritti. Ritardi di altra natura a Muro Lucano, dove le operazioni si svolgeranno direttamente presso il nosocomio locale e dove è stato programmato un primo turno per le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni, soltanto per sabato prossimo. I pazienti verranno contattati in base alle indicazioni degli stessi medici. Intanto Lanci ha chiesto ai vertici del sistema sanitario regionale di conoscere dettagliatamente il piano vaccinale attuato. Da lunedì prossimo, salvo intoppi, le dosi che verranno consegnate ai medici di famiglia dovrebbero essere 70. Infine sono 44 mila i lucani vaccinati dal mese di gennaio ad oggi. E passiamo alla cronaca giudiziaria. Inizia a ulteriori sviluppi per l'operazione Cashback che lo scorso 22 gennaio portò a quattro misure cautelari in relazione ai episodi di peculato ai danni dei comuni di Ripacandida, Oppido, Genzano e Cancellara. In seguito a ulteriori indagini della Procura di Potenza si è aggravata la posizione degli imprenditori La Rotonda e Santoro, ora tradotti in carcere nel capoluogo. Il primo ha violato le limitazioni a cui era sottoposto intrattenendo conversazioni telefoniche sulle indagini in corso, mentre Santoro cercava anche scamotage per garantirsi una continuità aziendale e millantava la possibilità dei suoi familiari di addomesticare le indagini e riottenere la libertà. Inoltre la finanza ha sequestrato ulteriori beni e disponibilità sui conti degli indagati per oltre 1,2 milioni di euro. E invece al via ieri il processo per abuso d'ufficio a carico dell'ex direttore generale dell'ARPAB Edmondo Iannicelli e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente lucana si è costituita a parte civile, come ci spiega Fabrizio Di Vito. Ha preso il via davanti al collegio del Tribunale di Potenza il processo di primo grado a carico dell'ex direttore generale dell'ARPAB Edmondo Iannicelli accusato di abuso d'ufficio in relazione alla nomina di due direttori amministrativi privi, secondo l'ipotesi accusatoria, dei requisiti previsti. Le nomine finite nel mirino della Procura di Potenza sono quelle a direttore amministrativo di Raffaele Giordano e del suo successore, Ufrasia Pesarini. In entrambi i casi, secondo l'accusa, Iannicelli avrebbe bypassato la legge di riforma dell'ARPAB datata 2015, secondo la quale il direttore amministrativo andava scelto tramite avviso pubblico destinato al personale dirigente ARPAB e del ruolo unico regionale. La prima udienza è stata dedicata alle questioni preliminari, ma è stata subito caratterizzata dalla Costituzione di parte civile da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, presente in aula anche l'attuale DG dell'ARPAB Antonio Tisci. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 19 maggio. A chiedere di ottenere il rinvio a giudizio di Iannicelli, a sua volta presente in tribunale, era stato il pubblico ministero Antonio D'Antona. A Iannicelli viene contestata anche un'altra ipotesi di abuso d'ufficio per aver permesso all'allora direttore scientifico di continuare a percepire lo stipendio anche dopo il pensionamento. L'avventura di Edmondo Iannicelli alla guida dell'ARPAB si era conclusa nel 2020. I fatti contestati invece abbracciano un periodo che va dal maggio 2016 al settembre 2018. Ancora cronaca, i carabinieri di Matera hanno arrestato per evasione un settantenne del posto già agli arresti domiciliari. A febbraio era stato destinatario del divieto di avvicinamento alla propria ex compagna dopo la denuncia presentata dalla donna per i continui maltrattamenti subiti. Provvedimento violato pochi giorni dopo. È inizio aprile l'aggravamento della misura cautelare con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico fino alla nuova violazione quando l'uomo è evaso dai domiciliari incamminandosi di nuovo verso l'abitazione della ex scattato l'allarme del dispositivo è stato subito bloccato e arrestato. Non avendo fissa dimora l'uomo però è stato accompagnato in una struttura di accoglienza. Bene, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria fra poco con tutte le altre notizie. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale priva di semi lavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL e Viale Regina Margherita 40 Tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà perché basta essere scritta con passione curando ogni dettaglio per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani. Seconda parte del notiziario la campagna di raccolta dei prodotti agricoli e ortofrutticoli è già partita ma manca la mano d'opera e si rischia la crisi del comparto già penalizzato dall'emergenza pandemica. Col diretti Basilicata lancia così l'allarme per la mancata proroga anche per il 2021 della possibilità di lavorare nei campi ai percettori del reddito di cittadinanza oppure sottoposti a cassa integrazione. I dettagli da Mariolina Notargiacomo. Serve in mano d'opera per la raccolta dei prodotti agricoli ed ortofrutticole e la stagione è già entrata nel vivo a lanciare l'allarme e la col diretti che ha le difficoltà per l'arrivo in Italia di braccianti stranieri evidenzia l'aggiungersi di quelle burocratiche che ostacolano l'utilizzo dei lavoratori italiani per la mancata proroga anche al 2021 della possibilità di lavorare nelle campagne per i percettori di ammortizzatori sociali di reddito di cittadinanza. Si tratta di contratti a termine dice col diretti non superiori a 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 nel limite di 2.000 euro già autorizzati nel 2020 che se prorogati nel 2021 potrebbero rappresentare anche un'opportunità importante per i bilanci delle famiglie per la situazione di difficoltà in cui si trovano altri settori economici. Per il presidente di col diretti Basilicata Antonio Pessolani una difficoltà sempre più evidente quella delle limitazioni alla mobilità degli operatori e dei braccianti impegnati nella raccolta dei prodotti uno degli effetti della pandemia che insieme al calo del volume d'affari in ragione delle restrizioni imposte alle attività oreca sta procurando danni enormi anche al settore agricolo ed agroalimentare e la questione si fa sempre più emergenza man mano che il calendario delle raccolte incalza dal Vulture Emelfese all'Alta Valle del Bradano dalla Valdagri al Metapontino è proprio quest'ultima area quella che destra più preoccupazioni come sottolineato dal presidente di col diretti Matera Gianfranco Romano fino al 2019 il comparto ortofrutticolo del Metapontino ha mobilitato in media circa 12.000 unità al giorno tra coltivatori diretti ditte individuali e braccianti agricoli di cui oltre 5.000 provenienti dall'estero o dalle regioni limitrofe di Puglia e Calabria un'esigenza che si è fatta emergenza in quest'area con il calendario delle raccolte in parte è partito fragole ortaggi in serra e poi albicocche e pesche fino all'uva da tavola e da vino fino a tutto il mese di settembre per questo concludono Pessolani e Romano un piano straordinario dei trasporti per i braccianti agricoli impegnati nel Metapontino ed il contestuale impiego di percettori di ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza può essere di grande aiuto all'intero comparto e ora voltiamo pagina con il passaggio di consegna alla direzione dei musei lucani scaduto il secondo mandato la direttrice Marta Ragozzino cede il testimone all'architetto Anna Maria Mauro noi abbiamo raccolto il suo commosso saluto questa mattina nel corso di Prima Notizia Celestino Benedetto passaggio di testimone alla direzione dei musei di Basilicata la direttrice Marta Ragozzino dopo 11 anni lascia l'incarico che sarà ricoperto dall'architetto Anna Maria Mauro che già dirige il museo nazionale e che avrà da oggi anche la guida ad interim della direzione Ragozzino da titolare della direzione regionale dei musei della Campania potrà ora dedicarsi completamente al suo incarico principale questa mattina nel corso di Prima Notizia ha raccontato la sua esperienza decennale non senza un velo di commozione io sono arrivata all'inizio di maggio del 2010 sono cominciate tante cose in quei mesi ho scelto la Basilicata perché volevo venire al sud ho vissuto nei sassi di Matera tutto questo tempo e mi sono trovata è commovente dirlo però volevo per quello che ho fatto ieri scriverlo mi sono trovata accolta in un modo straordinario tutte le persone io non le posso nominare tutte le persone con cui ho lavorato perché sarebbe una lunga 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 lista però sono tutti davvero nel mio cuore anni densi pieni di umanità e di scommesse culturali su tutte Matera 2019 quella data indimenticabile del 17 ottobre che devo dire che forse è il giorno più bello della nostra vita perché è stato in quella piazza piazza San Giovanni così importante per tutti noi tutti ci eravamo ecco se io riguardo le foto di quel pomeriggio della paura che avevamo dell'adrenalina che scorreva del silenzio di quell'attesa e poi che tutti abbiamo saputo leggere il dito che scorreva e che prima che poi il ministro Franceschini dicesse Matera noi l'avevamo letto Matera è stata un'emozione e una responsabilità nel mio cuore nella mia esperienza e oggi è il mio compleanno e quindi è un grande regalo quello che mi state facendo grazie infine una speranza per il dopo pandemia questa crisi ha lacerato quello che stava fiorendo però io sono sicura che con un grande sforzo io vorrei essere coinvolta in questo sforzo non farò mancare davvero il mio il mio contributo si ripartirà ora passiamo allo sport con il calcio il potenza si gode la salvezza sul campo inizia a pensare al futuro mentre continuano le incomprensioni con l'amministrazione comunale Guarente e la gestione dello stadio Viviani sentiamo Gigi Santopietro un uomo solo al comando la passeggiata solitaria di Caiata a fine partita con salvezza acquisita e la gioia contenuta a stento la corsa verso la curva idealmente gremita di tifosi con al fianco solo Flamia e Iovino e in mezzo un'assenza pesante non sono passate inosservate adesso godiamoci la salvezza poi pensiamo alla Paganese e infine a tutto il resto il patron ha glissato così sul futuro del club che adesso diventa la parte più succosa e interessante in casa potenza come si proseguirà con o senza questa società con o senza patron Caiata la matassa si districherà dopo il 2 maggio intanto l'incontro di sabato tra Caiata il sindaco Guarente e l'assessore allo sport Guma è stato interlocutorio Caiata è uscito non del tutto soddisfatto più convinti rappresentanti del governo cittadino quasi come se le parti in causa parlassero lingue diverse il giorno dopo la salvezza conquistata l'amministrazione si è congratulata con la società e ha annunciato il sostegno all'unico club professionistico rimasto in regione sostegno che andrà valutato nel corso delle prossime settimane il primo passo è stato rimandare i lavori al Viviani che riguarderanno la viabilità di accesso agli spogliatoi lato tribuna la copertura della tribuna centrale e il ripiastrellamento degli spogliatoi il Potenza ha chiesto di poter finire i tornei della primavera e quello femminile e poi si potranno aprire i cantieri da giugno in poi con il beneplacito dell'amministrazione comunale che si accollerà alle spese della manutenzione straordinaria l'altro punto affrontato è stato quello del rinnovo della convenzione che scade al 30 giugno ma che verrà affrontata in un successivo incontro verso metà maggio per non arrivare impreparati al momento opportuno riguardo all'eventualità di un nuovo stadio più realisticamente per il restauro del Viviani sindaco e assessore hanno spiegato che nei prossimi giorni si allestirà una commissione tecnica per valutare le manifestazioni di interesse che giungeranno al comune ma questo discorso avrà tempi lunghi quando anche dovesse arrivare un privato pronto a eseguire i lavori il discorso sull'inizio stesso si sposterebbe al termine della prossima stagione una dilatazione dei tempi probabilmente inevitabile ma che fa stringere i denti a caiata che al momento non sembra intenzionato ad abbandonare la nave ma da qui a giugno tutto può ancora succedere ma intanto dopo la gara col Monopoli dal giudice sportivo arrivano sanzioni per la società Rosso Blu il presidente caiata inibito fino al prossimo 5 maggio con un'ammenda di 1000 euro per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara altri 3000 euro di ammenda per il club di Viana Zariosauro perché persone ammesse in tribuna dalla società hanno rivolto durante la gara e al termine della stessa reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale gli stessi hanno lanciato sul terreno di gioco due bottiglie d'acqua semipiene senza conseguenze e in serie D invece brutte notizie in casa Picerno dove il centrocampista offensivo Gioele Origlia ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore oltre alla lesione del menisco la conferma arrivata nelle ultime ore dallo staff sanitario dei Melandrini dopo tutti gli accertamenti del caso Origlia sarà a Villa Stewart a Roma in questi giorni dove poi dovrà sottoporsi a intervento chirurgico bene con questo è tutto per questa edizione vi ringrazio della cortese attenzione vi lascio alla programmazione della rete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti